Benvenuti a Cagliari, questa è Cagliari-Napoli Attenzione a Biondini, palla interessante viene soltanto sborcata Il tocco sotto la parte di Cossu, De Santis che resiste ancora Possibilità per Cossu Il tocco sotto la parte di Cossu Il tocco sotto la parte di Cossu Il tocco sotto la parte di Cossu Palla verso Matri, dentro c'è l'arribei Cross morbido, grande scelta di tempo, 2-1 Riuscire a servire Cossu, nuovo cross, palla dentro, deviazione, 2-2 Occhio al cross, dentro verso Ceda, 2-2, 3-2, 3-2, Ceda Allegri, insomma, diciamo, ha resa più difficoltosa la rimessa al Napoli E quindi l'Avenzi è arrivato in corsa, ha sparato questo pallone che ha colpito l'allenatore del Cagliari Grava lo può difendere, i 10 in Napoli, la battuta dentro, colpo di testa Marchetti, non fa Bogliassino Gollo e 3-3, gollo e 3-3, esulta l'Avenzi 3-3, il pareggio di Bogliassino Devono essere tutti orgogliosi, fammelo dire, abbiamo vinto una grande partita Grazie a tutti Tel Aviz, lo sguardo in ferocito, è uno di quelli, perciò lo chiamano in loco Quando perde la testa sono dolore Napoli completamente in avanti, sbilanciato, grava, sottoporta, colpiamolo adesso Marchetti da rete, si compie la rete, si compie la rete, si compie la rete, si compie la rete 3-3, 3-3, Dio è grande, Dio è grande, Dio è grande E questa sera ne abbiamo avuto la prova 3-3, 3-3, è l'asito più corretto 3-3, non era giusto, non era corretto perdere questa partita 3-3, ci ha pensato Mariano Bogliassino a mettere le cose a posto Guardate qui, il traversone di Grava, sottoporta il colpo di testa E poi Bogliassino, 3-3, Don Don Bogliassino, la dimostrazione che Dio è grande 3-3, qui allo stadio Sant'Elia, non era giusto perdere questa partita Guardate la Mezzi, che gioia, che entusiasmo Purtroppo il Napoli si è complicato l'esistenza Si è complicato l'esistenza E ha permesso a Cagliari di entrare in gara Merito a Cagliari Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti